Buon pomeriggio ragazzi, eccoci con il live di domande e risposte, oggi occasionalmente di giovedì, anche perché tu ieri eri impegnato in altre attività Sì, ti puoi scrivere 18 articoli che sono tutti sulla pagina adesso Adesso possiamo dirlo finalmente dove eri stato Sì, sono stato al Sony Digital Showcase a Londra, dove ho visto molti dei titoli digital di Sony Ho fatto un articolo riassuntivo di quello che ho visto e poi ho coperto per il momento un paio di titoli con anteprime scritte, quelli principali E altri due li coprirò domani, sempre con anteprime singole Tanta roba, tantissima roba, perché abbiamo visto qualcosa come più di una decina di titoli, a tutti gli effetti Tutta roba minore in realtà, al di fuori di un paio di giochetti che erano noti da un po' Che sono? Shadow of the Beast e Everybody's Gone to the Rapture Che sono tra l'altro in pagina in questo momento Poi dopo il live guardatevi ragazzi, perché sono anteprime discretamente interessanti Perché Shadow of the Beast in realtà si è rivelato leggermente sotto le aspettative Nel senso che, oddio, non è che fossero altissime le aspettative Anche perché non si basava su un marchio proprio leggendario Perché se li ricordano solo quelli che avevano un'amiga E oggi è invecchiato veramente malissimo Shadow of the Beast Però diciamo che ci si aspettava una possibilità di titolo concreto Il game designer era esattissimo, nel senso che lui è tipo un fan super spiegattato dei vecchi Shadow of the Beast Quindi era contento di averci lavorato Era contento di averci lavorato, però il gioco per il momento ci è sembrato un po' legnoso E con un gameplay un po' troppo semplicistico per essere davvero apprezzabile Il che a tutti gli effetti ci crea qualche dubbio a livello di prodotto Non siamo sicuri che sarà un capolavoro Certo è ancora presto, bisogna vedere ancora che sorpresa Perché noi ci abbiamo giocato poco Quindi dice che c'è speranza? C'è speranza sempre, anche perché comunque abbiamo giocato solo un livellino iniziale Non è che abbiamo visto molto Però, insomma, la legnosità quella per levarla dovranno fare qualche modifica sostanziale Vedremo, vedremo perché è troppo presto Invece Everybody's Gone to the Rapture è uno dei giochi più strani che abbiamo mai giocato Perché chiaramente è un esperimento Nel senso, è un titolo dove è tutto basato sulla narrativa ambientale Un po' come lo era Gone Home per certi versi Ma dove Gone Home funzionava alla grande perché era lineare Molto ben scritto e aveva una vicenda ben precisa su cui si basava Che veniva poi sforzata con la narrativa ambientale Everybody's Gone to the Rapture ti dà libertà quasi assoluta L'hanno sviluppato gli stessi Dear Esther Per farci, di Dear Esther, per farci un'idea E hai libertà di esplorazione assoluta in quel villaggio dove non c'è nessuno E tu praticamente giri per il villaggio e le informazioni le prendi solo Dalle cabine telefoniche, dalle radio per terra E da delle luci che praticamente devi ruotare il pad PlayStation Per sincronizzare Ok, finalmente è un gioco che sfrutta il successo Sì, esatto Però il gameplay è tutto lì Nel senso, sei tu che giri e raccogli informazioni su sei diversi personaggi All'interno di questo paesello che dovrebbero svelarti insomma Ognuno una storia diversa Solo che si vada veramente dalla storia insulsa Tipo storia d'amore tra due persone di mezza età che già sposate con altri Per dirti Alla roba più interessante Tipo dottore che sta ricercando una malattia misteriosa A cui non si può porre rimedio E si diffonde, non si capisce bene Quindi insomma c'è C'è una C'è questa divisione delle trame Cioè sei spinto a prendere i pezzi del puzzle e metterli insieme Ma è tutto molto confusionario È difficile capire fino a che punto renderà Una volta che il gioco sarà completo O se sarà un enorme buco dell'acqua Cioè chiaramente in mezz'ora di prova In cui tra l'altro il gioco mi è crashato due volte Non posso dare un giudizio Ci sarà da aspettare Così come io non posso dare un giudizio su F1 2015 Visto che Babby mi domanda se l'intelligenza artificiale è stata migliorata Non ho potuto verificare come è cambiata l'intelligenza artificiale Perché per ragioni legate alla demo e al tempo concesso Non ho potuto compiere questo tipo di analisi Vi posso dire come ho scritto in anteprima Che il gioco è migliorato tantissimo E con il motore Ego 3 è veramente Bello da vedere Bellissimo Sembra di stare in pista È incredibile Certo abbiamo provato la versione PC Quindi chiaramente È chiaro Era quella più lucidata di tutto Assolutamente Però hanno promesso 1080p 60 anche su console Vedremo che cosa dovranno sacrificare Per riuscire a ottenere dei risultati Decenti anche su console Vinny P Questa è una domanda che avevo fatto anche la volta scorsa Ma che non avevo letto Perché sono bastardo Avete letto del successo a scoppio ritardato di Alan Wake A voi è piaciuto? Vorreste vederlo un seguito nonostante quanto Allora Alan Wake a me è piaciuto Personalmente ho trovato che a livello narrativo fosse notevole Anche se aveva Non era chiarissimo E non tutti gli elementi erano perfetti Ma aveva una grande atmosfera Aveva una grande narrativa Tecnicamente erano veramente notevole all'epoca E il suo gameplay funzionava Perché comunque era un'interessante visione del survival horror Nel senso con la gestione della luce Non è secondo me un capolavoro incredibile Alan Wake Però si tratta di un ottimo gioco Io quando avevo letto Quando era stato presentato inizialmente Alan Wake Presso gli studi di Microsoft a Milano E avevo cominciato a vedere che come fonti di ispirazione C'era Lynch C'era Lynch nel senso David Lynch C'era Twin Peaks Assolutamente Io ero rimasto incantato Era veramente molto figo L'atmosfera del gioco all'inizio è straordinaria Poi secondo me si perde un po' Le meccaniche sono un po' sempre le stesse Sì esatto Diciamo che inizialmente colpisce molto Sul finale colpisce molto Nel mezzo non reggia lo stesso ritmo Con la stessa potenza Ho trovato molto più visionario Che è dell'inizio della fine Ho trovato molto più visionario il secondo gioco di Alan Wake Ah sì è American Nightmare Che era molto più action in realtà Sì era molto più Sparone Molto più action Ma la sua formula che continuava a ripeterti la stessa cosa Variando alcuni punti Ti creava un'inquietudine che secondo me Era anche più breve Sul breve periodo Rendeva forse di più Costava anche molto Sì chiaramente Fatto sta che sì Era un titolo interessante Un 2 Non ti so dire quanto renderebbe Perché secondo me è stato un ottimo esperimento Che forse non è il caso di continuare Ma Cioè secondo me Sono più felice del fatto che stia lavorando a Quantum Break Perché diciamo che preferisco quando gli studi lavorano a nuove Si vede comunque che Quantum Break arriva dall'esperienza di Alan Wake Assolutamente Molto alla lontana Ma comunque sì Come stile di Secondo me come design degli ambienti Delle luci Eh sì Illuminazione più che altro Perché poi a livello di gameplay Chiaramente Per carità È un altro gioco Un'altra domanda La fa Noni93 Volevo chiedervi se in Project Cars Saranno presenti degli obiettivi secondari Come per esempio Un numero di stelle In base al tempo ottenuto Io non l'ho giocato quindi Io l'ho giocato ma non ho giocato la campagna Ho provato il modello di Quinta La risposta non la conosciamo Ti posso dire però che c'è Ci sono se non sbaglio Quattro tipi di carriera Anzi quattro modalità carriera In cui praticamente Se non erro Abbiamo una modalità Che è la modalità in cui si sceglie La classe E si gioca su quella Una modalità Che è From Zero to Hero Quindi si inizia con i go-kart Si fa carriera fino ad arrivare Alle classi principali E altre due Che non mi ricordo come sono Ma sicuramente All'interno di queste diverse modalità Ci sono degli obiettivi da raggiungere Non so se sono tipo Ottieni 5 stelle per la curva perfetta O cose di questo tipo Francamente non credo Però Pare che il gioco dal punto di vista dei contenuti Sia molto corposo E la cosa mi piace molto Sono le 15 e 10 E avevo promesso che Avrei salutato I ragazzi del secondo anno Di multimedia Presso le scuole civiche di Milano Quindi ciao ragazzi Ciao ragazzi In attesa del Nuovo titolo Basato su Star Wars Con la speranza Che sia di ottimo livello qualitativo Quale gioco Della saga Mi consigliate Che non sia banale E poco coinvolgente? Allora Beh Ci sono Ci sono i vecchi classici Allora Parliamo un attimo di battle Frontale Sono gli Star Wars Days Negli Stati Uniti Non siamo stati Mandati Da Electronic Arts A queste giornate Per vedere Battlefront Probabilmente non hanno gradito Moltissimo I nostri splendidi live Su Battlefield Hardline Fermo Zing Zing Andremo dai nostri colleghi Gli faremo fermo E gli fregheremo tutte le informazioni Appena usciranno le informazioni Faremo le nostre valutazioni Faremo chiaramente le nostre valutazioni E scriveremo un articolo Fatto sta che Niente Come abbiamo detto l'altra volta Su Battlefront ci sono molti dubbi Al momento Perché Se tecnicamente Non abbiamo grossi dubbi Sul fatto che sarà bello da vedere A livello di gameplay Non vorremmo il solito Reskin di Battlefield Vorremmo qualcosa di un po' più concreto Un po' diverso Un po' più figo Dalle Electronic Arts di adesso Queste cose Non ce le aspettiamo Ormai Non ce le aspettiamo più Quindi Boh Vediamo Magari Arriveranno Magari ci sorprenderanno Magari resteremo davvero stupiti Avremo il gioco di Star Wars definitivo Magari no Quindi Niente E' troppo presto per dare delle valutazioni Per quanto riguarda i giochi legati a Guerre Stellari Se ti piace un'esperienza cacciarone I Force Unleashed Non sono niente di speciale Ma sono Carini No Tolti quelli C'è chiaramente Knights of the Old Republic Il primo Che è un GDR della Madonna Il secondo Che è molto sottovalutato Che purtroppo è chiaramente incompleto Ma con la patch Che aggiunge un mondo E correge molti degli elementi del gioco Quando era stato rilasciato E' ancora oggi Un ottimo GDR A sua volta Ci sono i Jedi Knight Che sono Dei gran sparatutto Ma sono molto molto vecchi Quindi chiaramente Non hanno retto il test del tempo Al momento Ok Recenti Recenti Di giochi di Star Wars Di alta qualità Purtroppo Non se ne vedono Da molto tempo Sono d'accordo con te E infatti Infatti Nonostante Gli apprezzamenti Fatti da Electronic Arts Di prima Diciamo che io spero Che Battlefront Che Battlefront sia un gran gioco Ci credo poco Ma ci spero Quindi Perché Star Wars Insomma è un gioco Di quel livello lì Se lo merita Specialmente Con il settimo episodio Vorrei dire che Un mese fa Quando io e Fart Siamo stati Presso la sede di 2K A Windsor Abbiamo visto Le copertine Che avevano esposto Negli studi Di sviluppo Quando ricevono Una copertina Su di una rivista La espongono A modi quadretto E la copertina In cui parlavano Di Borderlands Aveva all'interno Un bell'articolone Su Star Wars 1313 E mi è venuto Il magone Ho detto Vabbè Si vocifera Tra l'altro Che ci sia uno studio Che sta riprendendo Il progetto 1313 Sono proprio rumor A casaccio Insomma Sta anche lavorando The Last Guardian E Al Flight 3 No Sta diciamo Riprendendo il concept Nel senso Action game Basato su Boba Fett Fatto sta Che Insomma Sono tutte voci Cioè nel senso Un titolo dedicato A Boba Fett Non mi dispiacerebbe Neanche La storia Legata a quel gioco Al 1313 Tra l'altro L'ho letta Non è stato Proprio piacevolissimo È stato un esempio Di pessima gestione A livello di sviluppo Nel senso Che tipo loro Stanno facendo un gioco E è arrivato A casaccio Uno di Lucas Che a un certo punto Ha detto Adesso faccio il gioco Su Boba Fett E con questi Che hanno fatto Tipo il 70% Del titolo Gli fanno Come cazzo Facciamo a cambiare Un'intera campagna Attorno a un personaggio Adesso Dici che quel personaggio È Boba Fett Sì È un po' come Quando Hanno fatto un video Pochi giorni fa Su internet Che mi ha fatto ridissimo Che è quello Delle sette linee rosse Che c'è tipo Perché la gente Odia lavorare Con quelli del reparto marketing E ci sono quelli del reparto marketing E l'ingegnere E poi quelli dell'altro Reparto marketing Ma perché non me lo fai Ma perché non mi fai Sette linee rosse Tutte perfettamente perpendicolari Di cui alcune verdi Alcune trasparenti Alcune blu E lui gli fa Non credo sia possibile E solo il marketing gli fa Ma no 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 Sta scherzando Chiaramente tutto per noi è possibile E gli faccio No guarda che Sette linee rosse Devono essere rosse Non possono essere blu Perché se sono blu Sono linee blu No no Ma troverai sicuramente il modo No cazzo Perché una linea rossa È rossa E non è blu E funziona veramente così Cioè È una roba tristissima Ma è veramente così Perché tu non sai Che cosa vuol dire lavorare Con Quando produci video aziendali Ah beh figurati Delle cose fantastiche Le richieste meravigliose Posso immaginare Ma comunque Sì più o meno La situazione è quella E con 1313 È stata una roba simile Nel senso Ma vabbè Andiamo avanti Me lo fai in ordine logico Ma non cronologico Che cacchio vuol dire Non lo so Lo sai solo tu È la classica domanda Me lo fai un po' più blu Ok Allora Dante Scroc7 Chiede Dice che hai già detto Quali sono i tuoi giochi preferiti Chiede quali sono i miei E quelli di Fierce E posso dire che Fra i miei giochi preferiti Ci piazzo Lost Odyssey Sorprendentemente E anche un altro RPG a cui sono molto legato Che è Neverwinter Nights E invece io so quello di Fierce Che è Rampage È vero È vero Lo dice sempre Lo dice costantemente Lo dice sempre Che gli piace Rampage Perché sono mostri giganti Che spaccano le cose E obiettivamente abbiamo capito tutto Salsi 1990 Secondo voi in futuro Sony farà come Microsoft Ha fatto con Xbox One E farà uscire un sintonizzatore TV Per la Playstation 4 Ne dubito fortemente Credo che Playstation punterà E lo sta già facendo Su contenuti Interni Quindi applicazioni Che trasmettono video L'ha fatto con Netflix Con Credo che ci sia anche Crunchyroll Forse su Playstation E credo che Se riusciranno a strappare L'accordo Faranno arrivare Anche altre cose Sky anche c'è Su Playstation Se non sbaglio Ah boh Su queste applicazioni Purtroppo non sono Non credo francamente Che creeranno un modello Con all'interno Un sintonizzatore TV Che peraltro Su Xbox Non è un sintonizzatore TV È semplicemente Un pass through Dell'HDMI Che è capace Di comunicare Col decoder Tutto qua Allora Che cosa ne pensate Di una possibile Uncharted Trilogy Remastered Chiede Jack 1886 Beh Che è una mossa Commerciale furba In arrivo di Uncharted 4 Potrebbe essere sensata Per coprire il buco Formato dal fatto Che Uncharted 4 È stato spostato Tanto ormai fanno Le remaster Di qualunque cazzate Fra un po' rimasterizzano Anche Campo Minato Per Windows Esatto Campo Minato Rimastered Sfrutterà appieno La grafica 60 fps Su Xbox One Diciamo che una remastered Contenente Uncharted 1 2 E 3 Ha un prezzo limitato Per dirti Ciò sui 40 euro Sarebbe anche un bel pacchetto Perché comunque Sono tre classici E Quale più Quale meno E comunque Insomma Un buon C'è più di una persona Che il primo Magari Non se l'è giocato Sì Quindi ci può stare È chiaro che Come al solito Ragazzi Noi non siamo fan Delle remastered Quando li valutiamo Comunque se sono buoni prodotti Gli dobbiamo dare Una buona valutazione Perché non possiamo farci Prendere dal Dal sentimento personale Nella cosa Noi dobbiamo valutare La qualità effettiva Del prodotto Fatto sta che Noi meno ne vediamo Più siamo contenti Perché vogliamo vedere Giochi nuovi Lo abbiamo detto Più e più volte Ma Diciamo che Insomma Per tappare i buchi Alle volte hanno senso Specialmente se si tratta Di giochi che non hanno avuto Il successo meritato Come la DNC Beh certo però ce l'ha avuto No Beh chiaro Come la DNC Collection Ok O di titoli che pochi hanno avuto L'occasione di giocare Perché è tipo Type Final Fantasy Type 0 Sì In quel caso Le apprezziamo In altri casi No Perché ricordiamoci Ragazzi che il motivo Per cui ci sono le Collection È semplicemente dovuto Al fatto che le console odierne Non hanno la retrocompatibilità Tranne Wii U E non avere la retrocompatibilità È una cosa cattiva Significa mettercela Nella retro Nella retro Sì esattamente Sanvere Dazza Chiede Ace993 La mia domanda è molto semplice Perché secondo voi Non creano un titolo Dedicato a One Piece Picchiaduro in stile Naruto Ninja Storm Invece del solito Musù Allora Beh ragazzi Perché innanzitutto Ricordiamoci che Tecmo Kohei Namco In generale Quando si hanno Le Si hanno i manga games È Namco Quella che c'è di mezzo O Tecmo Kohei Comunque Una delle due Ma di solito è Namco E Namco non ha motivo Per farsi concorre Concerenza all'interno Del campo dei Picchiaduro Con due Picchiaduro Delicate a due marchi diversi Perché nel momento In cui hai già Naruto Che è comunque Di largo rispiro Vuoi coprirti Un'altra fascia di mercato Facendo un musù Di One Piece Quindi non fai Un Picchiaduro di One Piece Perché già i Picchiaduro Sono titoli Piuttosto di nicchia Naruto È un caso particolare Nel senso che Ha già occupato Quella nicchia lì Di Picchiaduro Un po' più accessibile Della media Ha aperto tutti Con la forza del manga Dietro al culo One Piece Avrebbe sicuramente Il potenziale Per essere un ottimo gioco Di quel tipo Ma I CyberConnect Già sono impegnati Con Naruto Far fare quel Picchiaduro Lì a qualcun altro Rischia di fare Un prodotto inferiore A tutti gli effetti Meno spettacolare Meno scenico Perché non ci sono Studi al momento Che abbiano le capacità A livello grafico E di semplice Tamarraggine Dei CyberConnect È già stato dimostrato Ampiamente Perché per dirti I Dimps Avevano provato A fare della roba Simile a Naruto Gli era venuta Neanche la metà Nel senso Quindi è chiaro Che si rafforzano La loro posizione Sul Musou Che comunque in Giappone Vende ancora Non ai numeri di prima Ma Poi per carità Se lo volessero fare Sarebbe molto bello Però per dirti Io di One Piece Preferrei un action Vero e proprio Cioè un action Classico Nipponico Non con 200 mila Avversari da ammazzare In stile Dei Mechai Sì Non magari con la stessa complessità Ma comunque Un combat system Più concentrato Magari sulle boss fight Perché cazzo One Piece Se non ce l'è a One Piece Con tutti i pirati che ha Con tutti gli incontri che ha Ti propongo Un bel Naruto Cross One Piece Picchiaduro Sarebbe figo Certo c'è G-Stars Victory Versus È vero Però qui c'è dentro anche Sì c'è Toriko C'è cose Un super crossover di tutto Però diciamo che Sarebbe figo Però anche lì Licenze Segue Non seghe Cose varie Hanno già comunque Cioè è già uberato Il campo dei manga games Sì sono d'accordo Quindi non possono esagerare Allora Questa domanda Che fa Cipo Ottavo Ci chiede Per quale motivo Non riesce ad aggiungere La foto nel suo profilo Nonostante sia 300x300 Più piccola di 48k Ti rispondiamo In seguito Perché adesso Così su due piedi Non so risponderti Ma indaghiamo Eh purtroppo ragazzi Controlla che sia JPEG Anzitutto Perché se carichi PNG o GIF Il problema è che Tipo quando si tratta di sito Noi non siamo Quelli che lo programmano Però ti rispondiamo Nei commenti Se riusciamo a venire a capo Al tuo problema Esatto Poi vabbè Nonostante non leggiate mai La mia domanda Io ci provo Vabbè non la leggiamo Andiamo alla prossima Ciao ragazzi Volevo chiedervi Vista la nuova strada Intrapresa No la leggiamo dai Leggiamo la domanda Ho letto molti commenti positivi Su Mortal Kombat X Eppure non sono mancate Le critiche per la questione DLC Yes Nonostante la situazione Non sia grave Come Street Fighter Cross Tech Non pensate sia una carognata In realtà Why Diablo Il problema di Street Fighter Cross Tech Che non erano tanto i DLC Che erano già su disco Ed è stato dimostrato Che a quanto pare Così anche per Mortal Kombat X Cosa molto triste A volerlo dire tutta Poi per carità Anche lì Magari non sono bilanciati I personaggi Quindi ci può stare Però insomma È una mezza carognata Quindi la situazione È lì Senza contare il costo Del Kombat Pack Che è ridicolo Perché si parla di 30 dollari Tipo Ostrega Per quattro personaggi Sì Ostrega davvero Quindi la situazione È grave Però Street Fighter Cross Tech Era un gioco Con pochi contenuti E grosse mancanze A livello di gameplay Poi dimostrate all'Evo Quando si è visto Che c'è Per la prima volta All'Evo I campioni del mondo Per vincere i match Davano un colpo E scappavano Per il resto del match Una roba che non si era Mai vista prima Vuol dire che a livello Di gameplay L'avevi proprio calcolato male Quindi non avevi Una base poi così solida Su quel picchiaduro Che poteva essere Un crossover eccezionale In più Mancavano dei personaggi Fighissimi Che erano già dentro il disco E sono stati poi Rilasciati in DLC Quindi tagliati Per Mortal Kombat X La questione DLC È similmente grave Ma sotto comunque È un gioco Con i controcazzi Nel senso che comunque È un gioco Che contenutisticamente Non delude Con un sacco di personaggi Con vari stili Che comunque li rendono Molto utilizzabili E molto reinterpretabili E tantissime robe Quindi alla fine C'è quella differenza lì Poi ricordiamoci ragazzi Che a noi di DLC Non piacciono mai Perché sono speculazione pura Nella maggior parte dei casi Dipende E nel caso di Mortal Kombat X Sì Nel caso di Visto che mi è stato chiesto In un'altra domanda Nel caso di Mario Kart IDLC No lì no Oddio Allora Parzialmente In realtà Perché Allora Lì sono chiaramente Contenuti che sono arrivati dopo Non c'è stato nessun taglio Non c'è stato nessun blocco I contenuti Dal punto di vista Delle piste di Mario Kart È uguale a qualsiasi altro Mario Kart Quindi Sono veramente dei contenuti extra Non sono cose Che mancavano E sono state messe dopo Esatto Sono veramente della roba extra Costano poco Sono tutte di ottimissima fattura Ma vale anche per Mortal Kombat X Nel senso che i combattenti Saranno sicuramente una figata E ripeto A me Mortal Kombat X è piaciuto molto Nonostante il fastidio per i DLC Perché comunque anche senza i DLC Rimane un gran gioco Godibilissimo e piacevolissimo Non è un obbligo averceli Il problema è che appunto Anche in Mario Kart Sono contenuti extra Ma comunque si parla di pacchetti da DLC Non troppo costosi Ma che ti aggiungono qualche personaggio Qualche pista Quindi comunque Non è che si tratta dell'espansione gigante Che viene venduta a poco Capito Sono contenuti comunque Non troppo difficili da sviluppare Che vengono venduti a fior fior di quattrini Che sulla lunga ti fanno spendere Per un gioco 100-120 euro Chiaro Invece di 60 Per averlo completo È il loro modo per È il loro modo per succhiarti i soldi E a me questa cosa Ha sempre infastidito molto Quindi Finché li fai come i CD Projekt Che dicono Ti aggiungiamo 30 ore di gameplay Per 25 euro Lì figata Lì ci sta È una campagna in più È una roba in più Vorrei ricordare che Quando non c'erano i DLC Nel senso che non erano downloadable No erano espansioni Esatto Quella è un'espansione Ma il DLC Alla COD Il DLC Alla Battlefield Il DLC Alla Di quel tipo qua Alla Mortal Kombat Ma anche alla Mario Kart Io ricordo di avere speso Dei soldi per l'espansione Del primo Rainbow Six Sì Che costava L'espansione costava 30 euro Sì Non c'erano ancora gli euro Però Il DLC così Quello limitato Contenutisticamente 40 mila lire costava Che comunque Ti paghi i furfiori di quattrini Perché non costano poco Il mostro di Evolve O chi per loro Quelli costano troppo Quelli costano veramente troppo Sono Un'infamata Sono un'infamata Perché tu hai una fanbase Che ha comprato Il tuo gioco Perché ama Il tuo gioco Perché ama Il tuo lavoro E vuole supportarti E la stai strizzando La stai strizzando La stai strizzando Perché chiaramente Loro vogliono Nuovi contenuti Del tuo gioco Ma se tu glieli offri così Gli stai strizzando fuori I soldi Come una vacca Da mungere Certo Non è una cosa giusta Nei loro confronti Io capisco che Non si campa di belle speranze Sogni e meraviglie Al mondo E ci vogliono i sordi Perché se no Non vai da nessuna parte E capisco anche In Edel Real Che in un campo di nicchia Come quello dei picchiaduro Devono cercare Di tirare su Più moneta sonante Possibile dal loro prodotto Che è uno dei pochi Non di nicchia Lì in mezzo Visto che Mortal Kombat È conosciuto in tutto il mondo Fatto sta Che comunque Nei confronti Degli utenti Non è una bella cosa E La gente lo sa Perché cazzo Su internet Non ho mai visto nessuno Che dice che DLC Sono una bella cosa Quel tipo di DLC lì Fatto sta Che comunque Ragazzi C'è richiesta E quindi la gente Continua a comprarli Perché comunque Vuole nuovi contenuti Del suo gioco Questi Questi sviluppatori Lo sanno E quindi continuano a farli Allora Continuiamo Con una domanda Che in realtà È una domanda di rotore Ma è anche un po' L'argomento della settimana Visto che alla fine È uscito GTA 5 Su PC Lui chiede Che cosa ne pensate Delle mod bloccate Quelle che promettono Di migliorare la grafica Non avevo sentito Che c'erano state Dei mod lock Praticamente Se le mod Vanno a toccare I parametri Grafici del gioco Al momento Sono bloccate Cioè Se cercano di migliorare La grafica Non lo trovo giusto No Ricordandomi quello che è stato fatto Con GTA 4 Assolutamente Alcune modi Era eccezionale Assolutamente Oddio Posso dire che al momento Io sto continuando i test Di GTA 5 A proposito Questa sera Farò una diretta Di nuovo Su GTA 5 Quindi ci vediamo Tranquillamente questa sera Poi metteremo l'annuncio E Vi posso dire che Il gioco Ha dei problemi Di configurazione Che fortunatamente ho risolti Che non sono dovuti al gioco Ma dovuti a un conflitto Tra il software di Nvidia E il gioco stesso Che poi sono stati risolti Sì Gli ho risolti Però vi posso dire Che il gioco Anche con una 980 Maxato Non riesce a tenermi Sempre i 60 Durante La guida Quando si accelera troppo Bisogna andare a toccare Dei parametri Quali la densità di popolazione E La densità dei veicoli Insomma Come tutti i giochi Rockstar Veramente pesante A livello grafico Abbastanza pesante Però Si tratta anche di un titolo Con delle grandissime potenzialità A livello di mod Se tu limiti il modding In un gioco con quelle potenzialità Limiti le sue possibilità A mio parere Perché ragazzi Ricordiamoci sempre Che una delle cose Per cui ritengo Il gaming PC Una spanna sopra Al resto È proprio il modding Non è un favoritismo personale O legato a cazzi e mazzi È dovuto al fatto Che il PC È l'unica piattaforma Al giorno d'oggi Dove la community Può intervenire Sul gioco Come meglio preferisce Se gli sviluppatori Gli danno la possibilità Di farlo Il che vuol dire Che tu hai un titolo Dove se c'è un problema Spesso la community Te lo risolve Guardate cosa è successo Con i porti di Dark Souls Guardate cosa succede Con molti dei titoli Valve Guardate quanta roba C'è stata inserita In quei titoli lì C'è una roba ammoldabile Cioè avere una community Che ti aiuta Non è una cosa Da scartare È una cosa Da abbracciare Il più possibile Lo ha capito Valve Vorrei capire Perché gli altri Stanno cercando Di distaccarsi Da questa cosa Non è furba Sulla patch di Raid Visto che ce l'avete chiesto Al momento Non ho informazioni Io so che doveva uscire Questa settimana E di solito I contenuti Vengono rilasciati Di giovedì Ok Quindi potrebbe arrivare Oggi pomeriggio Sì Però da Milson Non ho ricevuto Alcune informazioni In merito Quindi ragazzi Pazientate Al massimo Glielo chiediamo Esatto Vi portiamo informazioni Il prima possibile Buon pomeriggio Volevo chiedervi Se il gameplay Di J-Stars Victory Versus Sarà simile Al gameplay Dei vari giochi Di Dragon Ball No in realtà Oddio Lo è quando usi Vegeta e Goku Nel senso che hanno Superscatto e volano Però diciamo che A livello di targeting Il sistema Sono più simile A una versione semplificata Di Gundam Versus Di cui abbiamo fatto Un live Molto tempo fa Ma abbiamo fatto Anche un live Di J-Stars Victory Puoi semplicemente Guardarti quello C'è una import review Che lo spiega Più nel dettaglio Con tanto di video Se vuoi dargli un occhio Ti dovresti un attimino Capire com'è il gameplay Quali sono le differenziazioni Logan Grancappello Ci chiede come è nato Il trip dell'Ungheria A questo spazio Mi sembra su Dark Souls Sì un ragazzo In chat Senza alcun motivo E credo anche A modi battuta Ma no Non credo fosse una battuta Credo che fosse Che fosse una domanda innocente Chiese se Dark Souls Era ambientato in Ungheria Io credo fosse una battuta Perché tipo Era forse andato A fare una gita in Ungheria Non lo so E aveva visto delle ambientazioni Relativamente simili Nei castelli Una roba così E aveva detto Ma questo gioco è ambientato in Ungheria E da lì basta È diventato un gioco Ambientato Tutto è diventato ambientato in Ungheria Sì Ok Allora Dopo l'annuncio Del prossimo gioco Dei Sensei A su PC È credibile Che il mio sogno Di un Super Robot Wars Su PC si realizzi Chiede Cross La vedo veramente improbabile È un marchio molto giapponese Già di suo Anche perché Super Robot Wars Contrariamente ad altri titoli Come appunto I Geo Stars vs Contiene anime E manga E comunque Comparsate di Di manga giapponesi Legati ai robot Che sono noti Quasi solo in Giappone E quindi qua Non avrebbero la stessa presa È difficilmente vendibile Dalle nostre parti Però è una possibilità Perché come abbiamo detto Quando siamo andati a Level Up Nanco ha affermato Di voler spostare in Europa Anche il suo reparto Entertainment Ora è entertainment Non è solo videogame Che vuol dire che Oltre ai videogiochi Dalla terra nipponica Arriveranno probabilmente Anche Gundam Arriveranno anche probabilmente Giocattoli Arriveranno anche probabilmente Action figures Quindi vogliono spostare Tutto il loro impero Del giocattolo di plastica Da là Anche a noi Cosa fichissima questa Se Dovesse arrivare Quella roba Nulla gli impedisce Di iniziare a portare Super Robot Wars Anche qua Nel momento in cui Ma non lo so Magari Gundam Dovessero avere un minimo di presa Sul pubblico europeo Digitale secondo me Però Non lo importeranno In negozi Digitale sì Però che sarebbe già Costerebbe troppo Sarebbe già una cosa Abbastanza figa Un po' come il gioco di baseball Che sto recensando in questi giorni Che è MLB Digitale Sì che da noi Non viene chiaramente In retail Però è bello ragazzi Gli appassionati Sono giocati È il migliore È veramente molto molto bello E vabbè Quindi niente Karma89 Ci chiede Visto che dobbiamo spesso Recensire i giochi Entro pochi giorni Nel caso di Bloodborne Tu non sei riuscito A vedere tutte le aree Perché alcune delle stelle L'hai lasciate sfuggire Alla prima run Beh Chiede se questo Questo tipo di Problemi Va a modificare il voto O comunque Allora ragazzi In realtà No Anche perché Sembra che lasciamo il gioco Ma ricordatevi che Per dirti Noi per giocare a Bloodborne Abbiamo avuto 5 giorni 5 ore Giorni Con le nostre ritmi Sono un minimo Di 50 ore di gioco Perché sia io Che buona parte Dei miei colleghi Abbiamo giocato una media Di più di 10 ore al giorno A Bloodborne Prima della recensione Che è una cosa sfiancante Ma diciamo che 50 ore di gioco Minimo Sono più che sufficienti Per valutare un gioco Di quella importanza A mio parere Lo ho completato Ma chiaramente La mia recensione Non si è fermata All'area anche Cerca del Pregenza Dice Poi lo ho rigiocato Abbiamo scoperto Anche altre robe Non sono riuscito a giocare Fondamentalmente solo Kine Hurt Quando ho fatto Bloodborne Che non avrebbe cambiato La mia valutazione Anche perché Avevo capito Che c'era qualcos'altro Che non avevo aperto Durante il gioco E ho detto Ci sarà sicuramente Un'altra area Sarà sicuramente Una figata Però non l'ho trovata Mi spiace Vabbè Però il resto Lo avevamo visto E comunque L'abbiamo anche Quando ci sono queste situazioni In cui non hai tantissimo tempo Per recensire un gioco E 5 giorni per Bloodborne Non sono stati molti Ci siamo anche arrabattati Perché abbiamo fatto Una cosa abbastanza comune Che è quella di sentirci Tra colleghi Perché comunque Ci conosciamo Siamo abbastanza amici E quindi Fare una recensione In cui ci scambiamo Delle informazioni Ci aiutiamo a vicenda Per fare un'analisi Più approfondita È meglio che farla Da soli Assolutamente Succede abbastanza spesso Succede abbastanza spesso Chiaramente Poi ci dicono che abbiamo copiato O che ci hanno copiato Gli articoli In realtà no Anche perché sono scritti Molto diversamente Il punto è molto semplice Cioè noi chiaramente Dobbiamo un po' rasciare Perché abbiamo degli embarghi Da rispettare Non rispettare l'embargo Non è semplicemente Una questione di click Ma è anche una questione Di rispetto Nei vostri confronti Perché se l'informazione Vi arriva dopo Magari avete già pigliato il gioco E non sapete di cosa stiamo a parlare Senza sapere niente O senza Quando in realtà Vi aspettavate Il più presto possibile La recensione Del vostro sito di fiducia Ok E farla per tempo È rispettoso anche Nei confronti dei publisher Che comunque ci ha fatto avere il gioco E vuole il coverage Per quel giorno lì È chiaro che Noi cerchiamo Di coprire lo più possibile Quindi anche se abbiamo tre giorni Magari ci facciamo due giorni Senza dormire È capitato Può essere Facciamo molte ore Su quei videogiochi È anche chiaro che Abbiamo bisogno In media di molte e meno ore Di una persona normale Per valutare un videogioco O completarlo Perché giochiamo tutta la vita Posso anche dire che Molti giochi Nel momento in cui tu superi Diciamo La metà del gioco Il gioco ti ha già svelato Tutte le meccaniche Sì Sono valutabili Già Sono Cioè ti sei già fatto Un'idea molto chiara Ti sei già fatto un'idea molto chiara A me è capitato Più di una volta Di scrivere un articolo Mentre sto ancora giocando Sì E di concluderlo Dopo che ho finito il gioco Ma proprio con due aggiunte Il fatto sta che Ragazzi ripeto Cioè dieci ore di gioco nostro A livello analitico Per gente che gioca tutta la vita Ormai ha imparato ad analizzarli Valgono molto di più Di un'analisi da 40 ore Di uno che non li sa analizzare Capito? Cioè ormai abbiamo imparato Dove valutare i giochi Mi vibrano le chiappe Ti vibrano le chiappe Sì Il buon Luciano Lo richiameremo dopo Caro Luciano Sono in diretta Luciano ti richiamiamo dopo Giuriamo Potrei anche risponderli Puoi anche risponderli Vai rispondi Pronto Luciano Pronto Luciano Siamo in diretta Siamo in diretta Se ti colleghi su Spazio Games Ci vedi in diretta Ti richiamiamo dopo Ti possiamo chiamare dopo? Grande Ciao Aspetta aspetta Che te li faccio salutare in diretta Lui è Luciano di Nvidia Saluta tutti Luciano Ciao a tutti Amici della diretta di Spazio Games Visto Grande Luciano Ci sentiamo Ciao Ciao Comunque Dicevamo Quindi chiaramente Le nostre ore Sono molto ben calcolate Anche perché stiamo attenti ai dettagli Controlliamo le meccaniche Valutiamo un attimino Il comparto tecnico Abbiamo comunque Un attimino In mente Cosa fare Rimuginiamo Su quello che facciamo È chiaro che Se ormai Fai sto lavoro Cioè se fai sto lavoro E hai un tempo limite E non sei in grado Di valutare un gioco Buttando cittici Anime corpo In breve tempo E arrivi Non lo so Quattro o cinque giorni In ritardo Perché non sei in grado Di finirlo Prima del tempo Forse è il caso Di cambi lavoro Intanto dicono Che vogliono Luciano Al posto di fare Luciano di per sé È molto swag A livelli Soprattutto perché ci dà Un sacco di cose bellissime Assolutamente Quello è vero La 980 Dobbiamo ringraziare Luciano Se abbiamo modo Di fare le GTA 5 Su live Se funziona stasera Sì esatto Prima di goofar Non ce la goofi Ieri funzionava Ieri funzionava Allora Ragazzi Ma di Dishonored 2 Si sa qualcosa? Nulla di più Di quel famoso leak Del logo Che poi era scomparso Se ci saranno informazioni Probabilmente arriveranno Alle 3 Ci speriamo Perché Dishonored Era stato tanto bello E il 2 Lo vorremmo veramente 92 Beetleguise O Beetlejuice A seconda di come lo vuoi leggere Beetlejuice Occhio che ti compare Alle spalle Non credete Che far uscire Amiibo In massa Per ogni gioco principale Nintendo Sia un'esagerazione Soprattutto per il fatto Che ci saranno Anche dei doppioni Non rischiano Di perdere attrattiva Beh Considerando Quanto stanno vincendo Quanto stanno vendendo No Anche perché Comunque devi valutare Che Non vengono fuori Amiibo Per ogni gioco Il doppione Tipo Lo Yoshi normale Quello di lana Esatto Gli Amiibo Sono chiaramente Innanzitutto Al momento calcolati Per i collezionisti Sì Con la loro Utilità La loro utilità È molto limitata A livello di giochi La loro fusione Quei DLC È molto furba Commercialmente Ma non è quella Che li vende E quindi È la bellezza Della statuina Che li vende Al momento Li vogliono tenere I collezionisti Chiaramente Quindi farne uscire In buon numero Non è una mossa stupida Perché più Tiri fuori Più la gente Te li compra Tra l'altro Dei valutare Che non sono molto A raffica Che all'uscita Sono poche Quelle a cui Vengono dedicati Gli Amiibo E non sono necessariamente Molti Perché per Mario Party Quante erano 7-8 Una serie singola Per Splatoon Sono solo 3 Amiibo Quindi in realtà Non è che c'è Sta raffica di Amiibo Che ti porta ad avere Dei modelli Per Mario Party Sono 4 Se non sbaglio Forse di più Forse 5 C'è anche Bowser Oltre a Toad Bowser, Toad, Peach Mario e Luigi Sono già 5 Sì È vero Quindi Ci sono dei Tra la nuova I nuovi Amiibo In arrivo Io personalmente Prenderò Credo Bowser Junior Sì A bordo del Del veicolo finale Yoshi di lana Chiaramente Yoshi di lana Ce lo prenderemo tutti Il che color lo vuoi? Rosa 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 Non lo voglio bleu Io lo voglio bleu Lo voglio bleu Io seriamente Il color rosa Mi piace Sono belli tutti Sono bellissimi tutti Sto diventando forse ricchione Come diceva Sto diventando forse ricchione Ma vabbè Comunque dicevamo No Quindi commercialmente Per loro è una mossa furba Finché la barca va Lasciala andare Insomma Poi non mi sembra Che lo stiano rilasciando Con così tanta frequenza Da arrivare a liberare il mercato Anche perché Nessuno riesce a comprarne Vari tipi Che sono troppo rari Perché hanno fatto Proprio delle robe scellerate A livello di distribuzione Quindi Canflon92 ci chiede Se faremo una recensione Un live sul prossimo DLC Di Mario Kart 8 Che se non sbaglio Esce il 24 Quasi sicuramente sì È quello dei 200cc Quindi Però non lo faremo il 24 No Lo faremo Perché siamo Al concertone di Zelda Siamo al concertone di Zelda E quindi Ragazzi Quindi magari Magari futuro Assolutamente A proposito Ecco A proposito di concertone di Zelda Questa sera Prima del live Dovrebbe essere pubblicata La nuova puntata Del nostro romanzo di Zelda Che ci ha scritto Il nostro utente Che ha vinto il concorso Per partecipare Proprio a questo concerto Leggo ancora una domanda Dalla Sì Poi faccio un'altra Anche io Un attimino Sora ci ha chiesto Quali sono i nostri personaggi Preferiti di Mortal Kombat X Io uso Kenshi Principalmente Ho sentito il Valentini Che a cui piace molto Kung Jin Perché ha un arco E Poi vabbè Usicchio anche Sub-Zero Io rispondo Quello che non c'è Perché ha un alternate Con la barba Io rispondo Quello che non c'è Perché avrei tanto Voluto Baraka Eh Baraka Arriverà probabilmente In DLC Ma chissà quando Speriamo Sarebbe un DLC Che comprerei Perché sono un super fan Di Baraka E L'ultima domanda Che leggiamo È Questo qua Su Caro 9 Andrew 3 L'abbiamo già fatta Sulle 3 L'abbiamo risposto Se non sbaglio L'ultima volta Alemans92 Questo è interessante Buon salve ragazzuoli Avete sentito Che GameStop Ha intenzione di ritirare E rivendere le console Che hanno fatto la storia Dei videogiochi Cosa ne pensate Potrebbe essere Una scelta vincente In termini di marketing Se le vendono A un prezzo decente Io mi ricompro Il Dreamcast Ok Io ti dico Che secondo me È un'ottima idea Perché quando sono stato Al videogame world Di New York Che è un negozietto Piccolino Nel quale vendono Solo retro gaming Era Si vedeva Che era un negozio Di successo Cioè era pieno di gente Eh certo A comprarsi Tipo l'edizione Giapponese Di un gioco SNES Ma quando ero andato Al super poteto Ad Achiabra I prezzi erano Abbastanza costosi Ma quelli che avevamo Visto a Denden Town Nel negozio retro gaming Che tra l'altro A Osaka Aveva fatto fallire Il super poteto Lì davanti Erano la metà E lì Ero veramente Stato tentatissimo Di pigliarmi Una roba Che era eccezionale Che era sto Nintendo Super Nintendo Portatile Grosso tipo Un game gear Dove tu mettevi dentro Le cartucce Era meraviglioso Però costava tanto Al videogame world Di New York C'era una console Custom Che legge Tutti E tutte le Le cartucce Dell'era 8 bit E 16 bit A prescindere È una figata estrema Ci puoi mettere E region free Ci puoi mettere dentro Mega Drive Ci puoi mettere dentro Ness Un capolavoro totale Solo che costava 200 e rotti euro Però aveva uno Scaler Per l'alta definizione Usciva in HDMI E io quella L'avrei comprata Con le bande Quelle orizzontali Io quella L'avrei comprata Subito L'avrei presa Cioè Me la sarei fatta spedire È fighissimo È veramente fighissimo Però sì Guarda Quindi ragazzi Intanto passiamo Alle domande Della chat Cominciate pure A domandare Sulla chat Comunque Sì Io fatto sta Che Se avessi Cioè Ce l'ho Ma non porterei Mai da GameStop Il mio NES No Chiaro Preferirei morire Esatto Però diciamo Che io invece Ho venduto Buona parte Dei console Stupidamente E non si fa L'uomo saggio Non lo fa Sono stato uno sciocco Però ero un bambino Stupido e panciuto Sono ancora panciuto Ma sono meno rincoglionito E quindi adesso Non le rivenderei E se trovassi Non lo so Un Saturn A prezzo molto basso O un Dreamcast A prezzo molto basso Quasi quasi Me li ripiglio pure Però va bene Insomma Cavaliere Nero 2000 Quando esce la patch Di Elite Boh Ci hanno promesso Che sarebbe arrivata Prima della fine Della primavera Ma non credo Che sarà la patch Quella che stiamo aspettando Con la discesa Sui pianeti Per quella ci vorrà Ancora un po' Credo che sarà La versione 1.4 Quella con Con la discesa Non si sta aggiornando La chat No si sta aggiornando Ah ok Si aggiornando Non ti preoccupare Half-Life 3 Sarà un'esclusiva PlayStation Vita Sì assolutamente Probabilmente anzi Sarà un'esclusiva PlayStation Portable Sì 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 Sicuramente PSP Go Domanda Vedremo mai un gioco Su Berserk L'hanno già fatto Un gioco su Berserk Non era neanche così Una schifezza Guts Rage Se mi ricordo Era un action Molto vecchiotto Non faceva neanche così Cagare Non era così pessimo Insomma Si lasciava giocare Altri giochi su Berserk Al momento Considerando che il manga Comunque È fermo Con un capitolo Che è gioco Ogni quattro mesi Tipo Esatto Va avanti Molto lentamente La vedo veramente Con la serie tv Perché me l'hanno tolta a metà Esatto La vedo molto La vedo molto dura Cioè Berserk Era uno dei manga Più famosi E seguiti all'epoca Adesso non è più così Quindi non è esattamente Per colpa dell'autore Però Sì per colpa dell'autore Si è rotto chiaramente Il cazzo Mi è ora di disegnarlo Se no Allora C'era un'altra domanda Che era Poco più sopra Se abbiamo risolto i problemi Su GTA 5 Sì Parzialmente Diciamo che sono risolti Al 90% Sì stasera riesci a fare il live Stasera ci provo ragazzi Stasera ci provo Avete notizie di El Ride Chiede Cobanero El Ride No Non particolarmente C'era stata quella lunga demo Abbastanza interessante Che era stata mostrata Non troppo tempo fa Ma di fuori di quello Non ti su dire altro Nel frattempo Se aspetti El Ride Gioca a Ride 2L Che è molto simile a Non giocare a Ride 2L Non seguire le bestemmie Di quest'uomo Gioca a Ride 2L Solo se vuoi farti Qualche grossa risata Col sesso vestito In caso contrario Le famose scelte Il sesso vestito Di Ride 2L Da dietro vestito Madonna mia Che orrore Che meraviglia Domanda Il televisore alle vostre spalle Lo usate solo per gli sfondi No Ogni tanto Quando sono in regia Ci faccio comparire la mia faccia E bacio la pelata di fare Esattamente Al di fuori di quello Ciao ragazzi Ve lo chiedo In maniera proprio diretta Non credete sarebbe il caso Di rivedere la review Di Dragon Ball Xenoverse L'online Che in teoria costituisce Buona parte dell'esperienza di gioco Dà problemi ancora oggi Eccetera No Personalmente non ritengo Che sia così Nel senso Sono stato forse Un po' buono Con Xenoverse Ma personalmente Ritengo che dovesse essere premiato Perché A dire il vero Il sistema di combattimento Non sarà affinato Come Tenkaichi Ma a me Non è sembrato così malvagio Su questo sono d'accordo con te E anche il fatto che sia personalizzabile completamente È stato gestito abbastanza bene Nonostante certi sbilanciamenti molto marcati È un titolo Che rende molto di più online Ma non è che non è godibile single player Perché comunque è divertente E è vero che ci sono stati problemi online All'inizio Abbastanza gravosi Ma appunto Con il fatto che sia anche godibile in single player Si sono percepiti un po' di meno E da quello che so Adesso è giocabile il gioco Perché io l'avevo provato non troppo tempo fa E era riuscito a giocarci senza troppe seghe Perché la cosa problematica è che manca il competitivo Ma come ho detto ragazzi Quel gioco non è Tenkaichi Secondo me l'otto se lo merita per l'originalità Perché comunque hanno tentato finalmente All'interno dei manga game Di fare qualcosa di nuovo Qualcosa di diverso Qualcosa che è riuscito anche a cambiare La solita campagna di Dragon Ball Che era sempre stessa E invece adesso è finalmente un po' mutata Un po' rimaneggiata Ti fa sentire parte dell'universo Toriyama Secondo me tutte queste cose per un fan di Dragon Ball Rendono Xenoverse un grandissimo titolo Molto apprezzabile e molto godibile Specialmente se sei uno che ha amato il manga Quando era piccolo O lo ama ancora adesso Quindi secondo me no Non va abbassato il vuoto al momento X Giuseppe17 ci chiede Che scheda grafica comprare In una fascia di Tra i 250 e i 300 euro Solo per la scheda grafica o per tutto il PC? Solo per la scheda grafica Ah ok Beh Credo che in quel range lì Stando più vicino ai 300 euro Dovresti riuscire a trovare Credo anche una 970 Sì che è una schedona Che è una signora scheda Se invece non vuoi passare alla competizione Credo che forse una 290X si riesce a prendere con quella cifra Non lo so Non lo so però diciamo Beh comunque ci sono delle ottime schede Per quella cifra insomma L'ordino 90 ci chiede di consolarlo Perché gli è arrivato Mortal Kombat in edizione speciale Ma lo Steelbox è rotto Ai 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 Quando succedono queste cose Specialmente se uno è un collezionista Sono bestemmie Vabbè ma gliene mandano una nuova Eh lo spero Cioè nel senso lì devi fare il reclamo A me si è rotto il pad della Playstation 4 Ci vogliono 3 settimane per ripararlo Eh chiedi una nuova Steelbox Ragazzo mio Perché soprattutto se sei un collezionista Queste cose sono inaccettabili Cioè vuol dire che te l'hanno Non lo so invece di portartelo imballato L'hanno buttato sui muri Perché una Steelbox non è faccia da rompere Si chiama Steelbox per un motivo Cazzo Vabbè Mi spiace Mi spiace Sì Allora È vera la storia di The Last of Us 2 Che è Jack 84CR No per il momento no Al momento è vera Quanto è Half-Life 3 Nel senso che c'è Non credo che Nessuno sa niente Non credo che Loro parleranno di Di un possibile Seguito Fino a quando non avranno completato I loro progetti in essere Perché Andrebbero a mangiarsi da soli L'attenzione verso Nel momento c'è da pensare a Uncharted 4 C'è da pensare a Uncharted 4 Finché non esce Uncharted 4 Secondo me Non si parla di altro Non si parla di altro Esatto Perché dovrei far calare l'hype del mio gioco principale al momento Faremo una video anteprima di F1 2015 Non possiamo Era l'unico gioco per il quale era vietato mostrare dei video Non so che cosa avessero da nascondere Perché era veramente molto bello Era molto bello da vedere Ma penso che sia fosse perché Probabilmente come dicevi tu Non c'era l'IA Ancora settata Non lo so Allora di sicuro Quelli di Namco Si sono fidati Perché hanno dato una build Non sapendo su quale computer sarebbe andata a girare Fortunatamente girava su di un bestione E quindi girava perfettamente Ma poiché aveva le impostazioni grafiche bloccate Proprio per questioni legate alla demo Se la demo fosse stata Montata su di un PC Non performante Probabilmente l'effetto non sarebbe stato così positivo E quindi ci hanno impedito di fare video E di mostrare in immagini il gioco Quindi fidatevi delle nostre parole scritte per il momento Yes Ok Notizie per un nuovo Armored Core Chiedetelac90 Purtroppo no È chiaro che al momento Fran si sta concentrando sui Soulslike Notizie sulle nuove espansioni di Diablo 3 Saniron90 Nessuna neanche per quanto riguarda questa espansione Si vociferà da tempo Che arriverà anche visto il successo commerciale di Diablo 3 Probabilmente c'è da aspettarsi un annuncio Al prossimo Blitzcon È una possibilità concreta Crediamo che arriverà Credo proprio che arriverà Non so quando Non so come Non so cosa riguarderà Sì Allora Riguardo di nuovo Lo ripeto Per quanto riguarda GTA V I problemi li ho risolti Vi spiego che cosa è successo L'ho detto anche prima A quanto pare Il software di Nvidia Quello che ti imposta automaticamente La qualità del gioco Faceva conflitto Con le impostazioni interne del gioco Quindi mi forzava Delle impostazioni grafiche Che io andavo ad ignorare All'interno del gioco Questo portava A un continuo accumulo di risorse Da parte del software di Nvidia Che alla fine mi bruciava Tutte le risorse Di memoria del PC E quindi il gioco alla fine Dopo circa due minuti Andava a scatti Risolto questo problema Io posso dirvi che il gioco Adesso gira Molto bene Cioè gira Non direi molto bene Ma gira bene Facendo lo streaming Ieri Stavo tra i 60 70 fotogrammi al secondo E i 45 Che non servono a nulla Perché tanto lo streaming È a 29 9 Tipo quindi Per lo streaming Sì Ma per quello che guardo io No per lo guardi tu Chiaramente C'è ancora qualche Qualche rallentamento Quando si accelera molto Con i veicoli Questo credo che sia Un problema fisiologico Del gioco Sì Novità con la compatibilità Di volanti Non Trustmaster Compatibili con le console Chiede Iroyui Allora Lo ripeto L'avevo già detto In qualche live precedente Al momento No Perché Questi signori Di Trustmaster Hanno L'esclusiva Su console Ma questa esclusiva È a tempo E sta per scadere Mi hanno detto Mi hanno detto Non posso dirvi chi Ma mi hanno detto Che A breve Ci saranno Delle grandi novità Per quanto riguarda Logitech E ci saranno Delle grandi novità In generale Per quanto riguarda Il mondo dei volanti Su console Francamente Credo che la novità Più probabile Sarà che il G27 E gli altri mitici volanti Verranno resi compatibili Verranno resi compatibili Credo che sarà questa La novità Però mi potrei anche aspettare Qualche hardware nuovo Da parte delle altre aziende Lo vedremo Manca pochissimo All'uscita Di Project Cars Che sarà Il primo gioco Ad avere veramente bisogno Di controller Altrimenti In caso contrario Esiste Uno strumentino Che ho visto In vendita Su di un sito Mi pare Cinese O di Hong Kong Boh non lo so Che permette Di utilizzare Il G27 Su le console Di nuova generazione Perché Sì Però Andateci con i piedi Di piove È rischioso È rischioso Ancora un paio di domande Prima di chiudere Mi chiede il Sior89 Se dopo Che Se dopo aver comprato Ride Ho comprato una moto Allora che ha provato Formula 1 Mi comprerò una monoposto No Avere i soldi Probabilmente Sono stato sulla monoposto Dopo Dopo la prova Anzi Prima della prova Di project cars Ci hanno proprio prestato Una monoposto Ed è stata una figata Colossale Anche perché I G laterali Quando si fanno le curve Su una monoposto Sono pazzeschi La 970 Dicono che sta sui 350 euro Ah Quindi mi sa che Sui 300 diventa Ti prende una 780 Che comunque è ugualmente valida Effettivamente Sì Allora Vabbè No il pad ragazzi Siccome era in garazia L'ho dovuto spedire a Sony In Francia Quindi ci mettono 3 settimane Per ripararmelo Da questo punto di vista Visto che poi mi dicono Che siamo sonari In questa occasione Devo dire che Il supporto tecnico di Microsoft È anni luce Avanti a quello di Sony Microsoft Xbox One Mi si è rotto il Kinect Il giorno che mi si è rotto Ho chiamato Microsoft Due giorni dopo Io avevo un Kinect nuovo Invece qua si parla Qua sono 3 settimane Per un pad Vediamo se c'è qualche Domanda interessante Non c'è ancora nessuna notizia Su The Division Ragazzi Nessuna nuova Insomma Ok Allora L'Odino 90 Io non ho giocato Agli altri Batman Ma sono ispirato tanto Da Batman Arkham Knight Secondo voi Mi rovino l'esperienza di gioco Non credo Non credo Anche perché poi Se parti da Knight Probabilmente Knight Te lo godi ancora di più Perché non hai Le basi dell'altro E le meccaniche ripetute Sì Considera che Knight Comincia che hai già tutti Gadget Esatto E comincia anche Che è già finita La storia di tutti gli altri Che probabilmente Ti verrà risolta In qualche modo Guarda Secondo me Si possono giocare Anche in ordine sparso Gli Arkham Sì no Infatti Sono tutti godibili A se stanti Però Insomma Vi do 100 euro Per Jimbo Costaci Subito Mandaceli Tanto ne compriamo un altro All'Ikea Per 2,90 euro Quindi va benissimo Jimbo è mio Poi Ok Novità di Until Dawn No Ultime domande Fateci una domanda Estremamente intelligenti Notizie sulla data Di The Division No No Notizie Un'altra domanda Che avevo letto prima Sulla data di uscita Di Project Cars Visto che è entrato In fase gold Credo che ci vorranno 4-5 settimane Massimo Quindi io credo Che entro la fine di maggio Il gioco arriverà Nei negozi Questo è quello che Secondo me Mi sta Verrà breve annunciato Non so di quando Verrà annunciato Questo purtroppo Non ne sono al corrente Va beh Secondo voi Tekken 7 Uscirà entro quest'anno Che The Bachelor's 39 Credo di sì Perché il gioco Negli arcade giapponesi È già ampiamente giocabile Il gameplay è completato Ma anche l'Europa secondo te? Credo di sì Perché di norma I Tekken sono abbastanza famosi Da venire Che la release È worldwide Più o meno In contemporanea Negli arcade giapponesi Come ho detto È già giocabile Il titolo ha già Un gameplay definito Ha già personaggi Con un determinato bilanciamento I nuovi pg Sono già stati tutti inseriti Fondamentalmente Quello su cui stanno lavorando Al momento Chiaramente È la campagna principale Le modalità alternative L'appaiamento del titolo Su un hardware Meno potente Come quello delle console Rispetto agli arcade E una volta Che sarà fatto questo Credo che il gioco Abbia A tutti gli effetti La possibilità di uscire Per la fine del 2015 O anche prima Non lo so Vedremo Senza parli più anche di questo Alle 3 Quindi secondo me sì Tekken 7 può uscire quest'anno Vedremo Salsi 90 Sì Formula 1 Uscirà il 12 giugno Questo è stato confermato Dice l'Orcad Che ha letto Che invece Sulle nostre pagine Che Di Order 1880 Eh sì Buonanotte Di Project Cars Uscirà il Il giorno 8 di maggio Non te lo posso Confermare per il momento Perché non lo so Francamente Se l'abbiamo scritto Magari è possibile Magari c'è stata una comunicazione Non mi è arrivato Questa mattina Non abbiamo la communication Non abbiamo ricevuto Un comunicato stampa oggi Quindi Se è arrivato Non ce lo siamo Ce lo siamo perduti Vabbè Last question Avete novità su Brothers in Arms No Anzi chiede se abbiamo Novità nuove Su Brothers No Non abbiamo neanche Novità vecchie Mi spiace Accidenti E quindi niente Quando tornerà Born Out Speriamo presto Mai Purtroppo Lo sappiamo tutti Mai Electronic Arts Si è mangiata Definitivamente I Criterion Sì esatto I Criterion adesso È al lavoro Su altro Esatto Nulla impedisce Quest'altro Di essere un ottimo altro Ma Dubitiamo fortemente Che possa essere Born Out Jim Champ Domanda seria Se aveste un mese Di ferie Pagate Doveste scegliere Un unico gioco Di qualunque epoca Da giocare in tutta tranquillità Quale scegliereste? Un qualunque gioco Di qualunque epoca Se tu avessi Un mese di ferie Io penso che Andrea I caraivi E va a fanculo I videogiochi Se avessi un mese di ferie No Se dovessi però Scegliere Eh non lo so Tutto quello che dovevo giocare Fondamentalmente Me lo sono già giocato Se dovessi Dovessi proprio Scegliere Un gioco Da potermi giocare Con grandissima calma E spensieratezza Non te lo so proprio dire Vecchi classici Proprio vecchi vecchi Tipo Non lo so Non lo so davvero Un gioco Solo un gioco Per un mese Non lo so Io di norma Quando ho le vacanze Sto a casa a giocare Ne finisco otto Di giochi Una roba del genere Quindi uno soltanto Non riuscirei davvero a dirti Quindi davvero Non so rispondere A questa domanda Io Una domanda Cosa la quale Seriamente Non saprei Che cosa dire Esatto To forse Proprio ninja gaiden Perché da piccolo Quello per NES Perché da piccolo O per Saturn Perché da piccolo Non sono mai riuscito a finirlo E potrebbe essere L'occasione buona Per mettermi in ballo Io credo che mi metterei sotto Con qualche final fantasy Sì O Ghosts and Goblins Giusto per vedere Se riesco a finirli adesso Che cosa ne pensiamo Di Splatoon Sembra molto figo Sembra molto Molto figo Più sembra figo Mi dispiace molto La roba della chat vocale Perché non vogliono Inserirla Per la solita motivazione Nintendo Motivazione di merda La motivazione è Che non Non gli piace l'idea Che un giocatore Possa insultarti Per come giochi Perché ti rovina l'esperienza Per carità Però ci sono altri giochi Che sono diventati Dei giochi Adatti ad un pubblico Anche più piccolo Si pensa Con la chat vocale A Garden Warfare Sì Nel quale ci giocano Principalmente Dei ragazzini urlanti Perché tutte le volte Che ci gioco Mi sembra di stare All'asilo Mario Potrebbero fare Come qualunque sviluppatore Con un minimo di senno E mettere una funzione Mute O un parental Un parental control A proposito Fammi dire una cosa Su Garden Warfare Non so se lo avete notato Ragazzi C'è l'Humble Bundle In questi giorni Ah e c'è il Garden Warfare No C'è l'Humble Bundle Di Electronic Arts Sono otto giochi C'è dentro Game of Effect 2 Un bel bundle E per una volta Visto che Electronic Arts Deve lavarsi Di dosso Una bruttissima reputazione Secondo me Appioppata anche Ingiustamente In molti casi Però comunque Deve lavarsi di dosso Questa reputazione Tutto quello Che voi pagate Va in beneficenza Va in beneficenza È una bella azione Quindi Humble Bundle.com Aiutate un po' I bambini Portatevi a casa È una bella azione Si sono quasi fatti perdonare Per non averci mandato Battlefront Con questa cosa No in realtà Sto scherzando Non si sono fatti perdonare In questo senso Ma comunque Va bene Non mi ricordo più Cosa stavo dicendo Ok No Era probabilmente Ah no Splatoon Sì la roba della chat È abbastanza ridicola È un peccato Perché quello è un gioco A cui una chat vocale Farebbe bene A livello di collaborazione Perché comunque È uno shooter Fondamentalmente Però c'è da dire Che sembra sempre più figo Sembra veramente figo Da tanti punti di vista Più lo vedo Più mi viene voglia di giocarlo Perché poi finalmente È uno shooter Di quel tipo lì Veramente originale Diverso da tutto il resto Che è una cosa Da non sottovalutare Al giorno d'oggi ragazzi È assolutamente E niente Quindi con Splatoon Chiudiamo La nostra live Scusami Scusami L'ultimissima Così lo chiariamo Kojima è stato licenziato Da Konami Non lo sappiamo ragazzi Non lo sa neanche Konami Non lo sa Oggi ragazzi Riguardando L'intro Di Metal Gear Solid 4 Sì Mi sono nuovamente reso conto Del disagio Di Kojima Sì Perché se vi guardate l'intro C'è una bellissima sequenza In cui Kojima Si In cui compare una scatola Una scatola di cartone In cui c'è scritto Da un lato No place to hide E dall'altro No place for ideo Subito dopo I titoli Della produzione Sì diciamo che Kojima Sicuramente con Konami Ha qualche Sassolino Una scarpa bella Se non ha dei sassolini È comunque Una persona stanca Sì È una persona stanca Old Snake Di quella zona Esatto Di quel lavoro E di quella posizione A quanto pare Non è una trollata A quanto pare Vuole Crediamo che L'unico motivo Per cui non ha annunciato Il suo Cioè Un diretto Vaffanculo All'azienda Che lo ha spinto Fino a quel momento È perché vuole finire Silent Hills Chiudiamo dunque Con la domanda serissima Di BigWay93 Visto che per Gianza È medico Ho dolori allo stomaco E faccio tanti peti Cosa può essere? Stai per morire È così? O hai un alien In la pancia Oppure Potrebbe essere lo streptococco Oppure hai il lupus Magari anche il diabete Ok Non potrebbe essere Semplicemente il latte Schiumato come Mugatu Quando dice Faccio un re di peti Se non me lo schiumi È presente Potresti anche avere Una semplice intolleranza alimentare Potrebbe essere Semplicemente quello Oppure potresti essere Solo uno Che mangia molti fagioli Della nostra regione Ringraziamo il proctologo Pregianza Per il suo importante contributo Ragazzi ci vediamo Questa sera alle 21 Con la diretta Di GTA 5 Se tutto va bene Se Dio vuole Io me la fuggirò A fare cose Anche perché E a vedere gente E a vedere gente E niente Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti